Capitolo IV Quel lunedì, 10 ottobre, un sole luminoso da giorno di vittoria ruppe le nuvole grigie e gonfie di pioggia che da una settimana posavano su Parigi. Anche quella notte non era mai smesso di venire giù una pioggerellina fine fine che infangava le strade, ma verso l'alba, sotto il soffio vivo che disperdeva le nuvole, i marciapiedi si erano asciugati e il cielo azzurro aveva una limpida allegria di primavera. Per questo il Paradiso delle Signore fin dalle otto splendeva ai raggi di quel bel sole nella gloria della sua grande vendita delle novità d'inverno. Le bandiere sulla porta e le pezze di lana in mostra si agitavano all'aria fresca della mattina animando Place Gaillon, d'un tramestio da fiera, mentre sulle due strade le vetrine ostentavano la varietà delle merci che dietro i cristalli lucidissimi parevano ancora più belle e vere. Era come un'orgia di colori, un'ebbrezza che irrompeva nella via, una montagna di roba ammucchiata perché tutti ne godessero, se non altro, con gli occhi. Ma a quell'ora entrava poca gente, qualche affaccendata cliente di tanto in tanto, qualche massaia del vicinato, qualche signora che non osava avventurarsi nel pigia-pigia delle ore pomeridiane. Dietro le stoffe che lo imbandieravano si indovinava il magazzino spopolato ma pronto a ricevere i clienti, col pavimento ben lucido e gli scaffali traboccanti mercanzie. La gente mattiniera, tutta in faccende, dava appena un'occhiata alle vetrine e passava senza nemmeno rallentare il passo. In Rue Nouve Saint-Agostin e in Place Gaillon, dove le carrozze dovevano mettersi in fila, alle nove non ce n'erano che due. Quelli del quartiere soltanto, specie i negozianti sbalorditi da una tal pompa di pennacchie di bandiere, si radunavano a gruppi agli angoli sotto le porte, col naso all'aria, sfogandosi in acri commenti. Li sdegnava principalmente una vettura ferma davanti all'ufficio delle spedizioni in Rue de la Michaudière, una delle quattro che Muret aveva di quei giorni mandato in giro per Parigi. Vetture tinte di verde con risalti gialli e rossi che verniciate ben bene mandavano sotto i raggi del sole, lampi d'oro e di porpora. Quella che era lì, nuova di zecca, con nome del negozio su tutti i lati e con sopra un cartellone che annunciava la grande apertura della vendita, se ne andò finalmente tirata al trotto da un bel cavallo appena ebbero finito di caricarla degli involti avanzati del giorno precedente. Bedou, che sulla soglia del vecchio Elbeuf stava a guardare livido livido, vide andar via a passeggiare splendidamente per tutta la città quel nome abborrito del paradiso delle signore. Cominciavano intanto ad arrivare carrozze e si mettevano in fila. Ogni volta che una signora entrava c'era un movimento tra i garzoni del magazzino, allineati nell'androne, con la livrea ad un verde chiaro nella giacchetta e nei calzoni e col panciotto a righe gialle e rosse. E l'ispettore Jouvet, vecchio capitano pensionato, se ne stava là, dritto in soprabito e cravatta bianca, con la sua medaglia come segno di vecchia onestà, accogliendo le signore con aria gravemente cortese e chinandosi verso di loro per indicare i reparti. Poi le donne sparivano nel vestibolo mutato in salotto all'orientale. Fin dall'entrata colpiva una meraviglia improvvisa, un'estasi, un rapimento. Era stata un'idea di Murray? Pochi giorni prima aveva comperato in Oriente a Buonissimo Mercato una collezione di tappeti antichi e nuovi, di quei tappeti rari che fino allora si trovavano soltanto dai negozianti di curiosità e si pagavano un occhio. Lui, invece, stava per inondarne il mercato, dandoli via quasi al prezzo di costo, contento di cavarne uno splendido addobbo che da solo avrebbe attratto nel magazzino l'alta clientela di gente di buon gusto. Quel salotto orientale si vedeva fin dal mezzo della Place Gaillon. Era tutto tappeti e tende disposte dai garzoni come egli aveva ordinato. Al soffitto erano applicati dei tappeti di smirne, fondo rosso, disegni intricatissimi. Poi alle pareti pendevano le tende, quelle di Keramania e di Siria, verdi, zebrate di giallo e rosso. Quelle di Diyarbakir, più comuni, grezze come una saia da pastore. E poi tappeti che potevano fare anche da portiere e da tende. I lunghi tappeti di Ispahan, di Teheran e di Kerman, quelli più larghi di Shoumaka e di Madras, strana fioritura di peonie e di palme, fantasia galoppante e briglia sciolta nel giardino dei sogni. Per terra ricominciavano i tappeti, una distesa di foltepelli. Al centro un tappeto d'agra, un pezzo straordinario col fondo bianco e un largo bordo blu chiaro, dove si alternavano decorazioni violacee, squisitamente fantasiose. Ovunque erano esposti i meravigliosi tappeti della Mecca, quei loro riflessi da velluto, i tappeti da preghiera del Dagestan, quei loro simboli, i tappeti del Kurdistan chiazzati, per così dire, di fiori sbocciati, finalmente in un angolo, un mucchio di tappeti di Gordès, di Kola e di Kircher, dati per nulla dai 15 franchi in su. Pareva una tenda da ricco pascià, ed era mobiliata con poltrone e divani fatti con pelle di cammello, alcuni variopinti a losanghe, altri con rose naif. La Turchia, l'Arabia, la Persia, l'India si erano date convegno, dovevano aver vuotato i palazzi, saccheggiato le moschee e i bazar. Nei tappeti antichi sbiaditi predominava il colore dell'oro rosso, ma pure nelle loro tinte impallidite conservavano un cupo colore quasi di fornace spenta e un bel colore da ceramica di antico maestro, e le visioni dell'Oriente ondeggiavano sul lusso di quell'arte barbara, tra gli odori acri che le vecchie lane avevano portati con sé dalla terra degli insetti e del sole. Quando Denisa, le otto, attraversò la sala orientale per cominciare la sua prima giornata, dallo stupore non riconobbe più l'ingresso del magazzino, e tra quell'addobbo da harem, proprio lì sulla porta, finì col perdere la testa. Un garzone la condusse nelle soffitte e la consegnò a Madame Cabin, incaricata della pulizia e della sorveglianza delle camere. Fu messa al numero 7, dove aveva già portata la sua valigetta. Era una stanzuccia che dava sul tetto per una finestra a botola, con un lettuccio, un armadio, una toeletta e due seggiole. Altre 19 camere simili a quella stavano come nei conventi in fila sul corridoio tinto di giallo. Vi dormivano le 20 ragazze del magazzino che non avevano famiglia a Parigi. Le altre 15 dimoravano fuori o da una zia o da una finta cugina. Denise si levò subito il vestito di lana consumato a forza di spazzolarlo e ramendarlo sulle maniche, l'unico che avesse portato via da Valogne. Poi si mise l'uniforme del suo reparto, un vestito di seta nero che le avevano adattato alla meglio e che l'aspettava steso sul letto. Le stava un po' grande e troppo largo di spalle, ma commossa com'era, fece tanto presto che non badò nemmeno a quelle piccolezze. Non aveva mai avuto un vestito di seta e, quando scese, tutta in gala, non sapendo che dire e che fare, nel vedere il lucido della sottana e sentirne il fruscio, quasi se ne vergognava. Quando fu per entrare nel suo reparto, udì un battibecco. Claire diceva con la sua voce stridula «Sono arrivata prima io!» «Non è vero», rispondeva Marguerite. «Mi ha dato uno spintone sulla soglia, ma il piede l'avevo già nella sala». Si trattava della lavagna sulla quale si regolava l'ordine della vendita. Le ragazze, a mano a mano che arrivavano, vi scrivevano il loro nome. E, volta per volta che una aveva servito un cliente, riscriveva il suo nome dietro a quello delle altre. Madame Aurelì diede ragione a Marguerite. «Sempre queste angherie!» mormorò piena di rabbia Claire. Ma l'arrivo di Denise riconciliò le ragazze. La guardarono e sorrisero. Ci voleva coraggio a infagottarsi in quel modo. La giovinetta andò goffamente a scrivere il suo nome e fu l'ultima. Madame Aurelì la guardava intanto inquieta, né poté trattenersi dal dirle «Ma figlia mia, in questo vestito ne entrano due. Bisognerà che lo restringiate. E poi non vi sapete vestire. Venite qui, che vi sistemo un po' io!» e se la portò avanti a uno dei grandi specchi che si alternavano con gli sportelli degli armati dove erano chiusi i vestiti belli e fatti. Quella stanzona tutta a specchi e a mobili di quercia scolpita, parata di stoffa rossa a grandi fiorami, rassomigliava la stanza ad un albergo dove non smette mai l'andirivieni dei forestieri. E la rassomiglianza aumentava per le ragazze vestite, secondo il regolamento, di seta, e costrette ad andare sempre su e giù con una grazia che non erano meno d'obbligo della seta, senza mai potersi mettere a sedere sulle dodici seggiole riservate alle sole clienti. Avevano tutte, tra un bottone e l'altro del giacchetto, come infissa sul petto una grande matita di cui usciva fuori la punta, e si vedeva a mezzo fuori di una tasca il bianco del libretto delle fatture. Alcune avevano dei gioielli, anelli, spilloni, catene, ma a civetteria più grande, il lusso che nella uniformità dei vestiti dava loro modo di gareggiare, erano i capelli, che quando non bastavano erano accresciuti da trecce false e chignon, sempre pettinati, lisciati, messi in mostra. Tiratevi un po' giù la cinta davanti, ripeteva Madame Aurelì. Non vedete che almeno ora la gobba sulle spalle non ce l'avete più? E i capelli come si fa a assassinarli a questo modo? Se li curasse sarebbero bellissimi! Erano veramente la sola bellezza di Denise. Biondi d'un biondo cenere le cadevano fino quasi al collo del piede, e quando si metteva qualche cosa sulla testa le davano tanta noia che si contentava di riavvolgerseli e trattenerli arrocchiati coi forti denti d'un pettine di corno. Claire, che quei capelli indispettivano assai, prese a ridere, tanto erano mal annodati nella loro grazia selvaggia. Con un gesto aveva chiamato una ragazza del reparto della biancheria, volgare ma non spiacevole. I due reparti, che erano contigui, non finivano mai di farsi la guerra, ma qualche volta le ragazze si mettevano d'accordo per canzonare la gente. «Mademoiselle Pauline, guardi un po' che criniera», ripeteva Claire, cui Marguerite dava gomitate incitandola e fingendo anch'essa di non poterne più dar ridere. Ma Pauline non aveva voglia di scherzare. Si era messa a guardare Denise e si rammentava di quando aveva sofferto anche lei i primi mesi nel proprio reparto. «Che c'è?» disse. «Non l'hanno mica tutte quella capigliatura lì». E voltò le spalle alle altre due, che rimasero assai male. Denise, che aveva sentito, la seguì con un'occhiata di ringraziamento, mentre Madame Aurelie le dava il libretto delle fatture col suo nome, dicendole «Domani vi accomoderete un po' meglio. Ed ora cercate di pigliare gli usi della casa. Aspettate che tocchi a voi. Oggi sarà una giornata di molto lavoro e si vedrà che cosa sapete fare». Ma il reparto era ancora deserto. A quell'ora erano poche le clienti che salivano al vestiario e le ragazze, dritte e lente, badavano a non stancarsi per essere fresche alle fatiche del pomeriggio. Allora Denise, intimorita dal pensiero che tutte aspettavano impazienti di vedere come avrebbe incominciato, temperò la matita, tanto per fare qualcosa, poi imitando le altre se la mise tra un bottone e l'altro nel petto. Si faceva coraggio da sé. Bisognava che il suo posto se lo conquistasse. Le avevano detto il giorno avanti che entrava alla pari, vale a dire senza stipendio fisso. Avrebbe avuto solamente la percentuale sulle vendite. Ma sperava ad arrivare anche così a 1200 franchi, perché sapeva che quelle brave ne prendevano fino a 2000, per poco che ci si mettessero sul serio. Aveva già fatto i conti. Con 100 franchi al mese avrebbe potuto pagare la pensione di Pepe, mantenere Jeanne, che ancora non guadagnava un soldo e mangiare lei stessa, comperandosi un po' di biancheria e qualche vestito. Ma per intascare quel tanto, bisognava che si mostrasse forte e lavoriosa, senza mai prendersela dei dispetti che le venissero fatti. Bisognava che combattesse e strappasse la sua parte alle compagne, se gliela negavano. Mentre si incitava così alla lotta, un giovanotto che passava le sorrise, e quando ebbe riconosciuto Deloche, che il giorno prima era entrato nella sezione delle trine, gli fece un sorriso. Anche lei tutta contenta dell'amicizia che aveva trovato e pigliando quel saluto per buon augurio. Alle nove e mezzo una campanella aveva suonato la colazione della prima tavolata, poi suonò per la seconda, e le clienti non venivano ancora. La vice direttrice, Madame Frédéric, che nella sua annoiata rigidità di vedova si divertiva pensando a un disastro, giurava con frasi secche che ormai la giornata era bella andata. Non sarebbe venuto nemmeno un cane, tant'era chiudere gli armadi e andarsene. La predizione faceva oscurare il viso volgare di Marguerite, avida di guadagno. Claire, invece, la cavalla scappata, pensava già a una bella gita nel bosco di Verghier, dato che il magazzino andava gambe all'aria. Madame Aurelì, poi, muta, grave, passeggiava per il reparto vuoto col suo volto da Cesare, come un generale che ha la responsabilità della vittoria o della sconfitta. Verso le undici entrarono alcune signore. Il turno di Denise stava per venire. In quel momento apparve una cliente. «Roba di provincia, ragazze!» mormorò Marguerite. Era una donna di 45 anni che di tanto in tanto veniva a Parigi da qualche lontano dipartimento. Ci metteva mesi a mettere da parte i soldi, poi, scesa dal treno, piombava subito al paradiso e vi vuotava le tasche. Di rado, scriveva, perché voleva vedere da sé, voleva toccare da sé la mercanzia. E faceva a Parigi perfino delle provviste da aghi perché, diceva lei, nella sua città costavano un occhio. La conoscevano tutti nel magazzino. Sapevano che si chiamava Madame Butarelle e che stava ad Albi, senza del resto che importasse a nessuno sapere chi fosse né come stesse. «Sta bene, signora?» domandò garbatamente Madame Morelì, che si era fatta avanti. «Che cosa desidera? Siamo subito da lei!» Poi, volgendosi, «signorine?» Denise si avvicinava, ma Claire si era precipitata. Di solito era in fingarda, poco importandole del denaro perché fuori ne guadagnava di più e senza tanta fatica, ma l'idea di rubare una buona cliente alla nuova venuta la faceva correre. «Scusi, sta a me!» disse Denise stizzita. Madame Morelì la fece scansare con un'occhiata severa, mormorando «Qui, per vostra regola, comando io. Aspettate d'avere imparato prima di servire le signore che si conoscono». La ragazza si fece da parte, ma sentendo che le lacrime le salivano agli occhi, volle nascondere la sua commozione e volse le spalle standosene davanti ai vetri, come se guardasse la gente che passava. Ma dunque le volevano impedire di vendere. Erano tutte d'accordo dunque a rubarle le vendite grosse. Si sentiva come stretta e schiacciata tra tante avvidità sguinzagliate e le prendeva paura per l'avvenire. Cedendo all'amarezza dell'abbandono, con la fronte appoggiata sui vetri freddi, guardava di fronte il vecchio boeuf e pensava che avrebbe fatto meglio a supplicare lo zio di tenerla con sé, chissà che anche lui non desiderasse tornare indietro. La sera precedente le era sembrato commosso sul serio, ed ora si sentiva sola sola in quella grande casa dove non c'era uno che le volesse bene e dove si trovava offesa e quasi smarrita. Pepe e Jeanne vivevano con degli strani, e dire che non si erano ancora staccati mai dalle sue gonnelle. Si sentiva spezzare il cuore, e due grosse lacrime che tratteneva le facevano ballare davanti la via come in una nebbia. Dietro a lei, in quel mentre, suddivano delle voci. «Questo mi fa troppo goffa», diceva Madame Butarelle. «Scusi, signora, ha proprio torto», ripeteva Claire. «Le spalle stanno stupendamente, seppure non preferisce una pelliccia a un mantello». Ma Denise trasalì. Una mano si era posata sul suo braccio. Madame Aurelì la sgridava «Ma che fate? State lì a guardare la gente che passa e non vi muovete? O a questo modo non si può mica andare? Una volta che non devo vendere? Per voi ci sono tante altre cose da fare. Cominciate un po' dal principio. Ripiegate la roba». Per contentare le poche clienti che erano venute, avevano di già dovuto buttare all'aria tutti gli armadi e sulle due lunghe tavole di quercia, a destra e a sinistra della stanza, si ammucchiavano mantelli, pellicce, cappotti, vestiti d'ogni sorta e d'ogni stoffa. Senza rispondere, Denise si mise a scegliere, a piegare, a riporre negli armadi. Era il lavoro delle principianti. Non si lagnò più, sapendo che lì bisognava sempre obbedire passivamente, ed aspettò che la direttrice volesse lasciarla vendere, come da principio pareva ne avesse voglia, e continuava a ripiegare quando comparve Mouret. Si sentì dare una scossa senza sapere il perché, e si fece rossa. Credendo che egli stesse per parlarle, si sentì ripresa dalla sua strana paura. Ma Mouret non la vedeva nemmeno. Non si ricordava nemmeno più di quella ragazza che l'espressione graziosa di un minuto lo aveva indotto a proteggere. «Madame Aurelì!» chiamò seccamente. Era un po' pallido, ma sempre con lo sguardo chiaro e risoluto. Nel fare il giro dei reparti gli aveva trovati deserti, e la probabilità di una sconfitta gli si era bruscamente presentata nel piano della sua fede assoluta nella fortuna. Le undici, è vero, suonavano in quel momento, e lui sapeva per esperienza che là il grosso della clientela non arrivava se non dopo mezzogiorno. Ma c'erano dei segni che gli davano noia. Le altre volte, fin dalla mattina cominciava il da fare, ne vedeva le donne senza cappello che, stando da quelle parti, venivano nel negozio da buone vicine. Sebbene fosse quello scettico che era, anche lui, come tutti i grandi capitani sul punto di cominciare la battaglia, era stato preso da ansietà superstiziosa. Si immaginava che non ci fosse ormai più speranza, e che sarebbe stato sconfitto senza nemmeno sapere come né perché. Gli pareva di leggere la sua condanna perfino sul viso delle signore che passavano. E proprio in quel momento la butarelle, la quale non c'era caso andasse via con le mani vuote, faceva atto di partire dicendo «No, no, non c'è nulla che mi vada, vedrò e mi deciderò». Mure la guardò dietro. Poi, accorsa alla sua chiamata Madame Aurelì, la prese da parte e si dissero in fretta poche parole. Ella fece un gesto quasi di desolazione, e da quel gesto si capì facilmente ciò che diceva. Le cose andavano male. Per un po' restarono l'uno di fronte all'altro. Mure seguitava ad angustiarsi in quei timori che i generali dissimulano davanti ai soldati. Finalmente, quasi fosse sicuro di sé, le disse «Se mai aveste bisogno di gente, prendete una ragazza nel laboratorio. Una mano ve la darà anche lei». Seguitò disperato l'ispezione. Fin dalla mattina scansava Bordoncle, che con le sue inquietudini e con le sue riflessioni lo faceva stizzire. Ma nell'uscire dal reparto della biancheria, dove non si vendeva nulla, si imbatte in lui e gli toccò sentire i soliti sfoghi. Allora lo mandò al diavolo con durezza villana, che nei cattivi quarti d'ora non rispermiava neppure i più alti impiegati. «Fatemi un po' il piacere di scansarvi tre passi? Tutto va benone, e chi ha paura lo metterò alla porta pedate!» Si fermò solo e dritto alla ringhiera della scala del gran cortile. Di là dominava il magazzino e sotto i reparti del pian terreno. Il primo che era deserto gli fece sgomento. Una vecchia faceva aprire tutte le scatole nel reparto delle trine e non comprava nulla, e tre altre sceglievano in quello della biancheria dei colletti a 80 centesimi, fermandosi un'ora ogni volta. Al pian terreno, sotto le gallerie coperte, nella luce che veniva dalla strada, osservò che il numero di clienti cominciava a crescere. Era un lento sfilare, una passeggiata lungo i banchi, ma qua e là grandi spazi vuoti. Nelle mercerie si affollavano delle donnicciole, ma alle lane e alla biancheria intima non c'era quasi anima viva. I garzoni, con il loro vestito verde luccicante per i grossi bottoni, aspettavano con le mani in mano. Passava di tanto in tanto un ispettore con l'aria cerimoniosa, col collo tutto d'un pezzo nella sua cravatta bianca, e il cuore di Moret si stringeva per la gelida quiete della grande sala. La luce di cadeva dall'alto, da una tettoia a cristalli opachi che la faceva divenire una polvere bianca diffusa quasi sospesa per l'aria, sotto la quale il reparto delle sete pareva dormisse in mezzo a un silenzio da chiesa che faceva rabbrividire. Il passo d'un commesso, delle parole sussurrate, un fruscio di sottana risuonavano leggeri, come soffocati dal caldo del calorifero. Delle carrozze non di meno arrivavano, si sentiva all'arrestarsi dei cavalli, poi il richiudersi delle portiere. Dal di fuori saliva un lontano rumore per i curiosi che stavano a guardare le vetrine e le vetture che erano fermi in Place Gaillon. Si sentiva l'avvicinarsi della gente. Ma vedendo i cassieri starsene in panciolle dietro i finestrini, e osservando che le tavole restavano vuote con sopra solo le scatolette da spago e le risme della carta per avvolgere, Amuré, sdegnato d'aver paura, pareva di sentire la sua grande macchina divenire fredda ed immobile, e col cuore che gli batteva lentamente come preso da quel gelo, pativa. Dite un po', Favier, mormorò Houten, guardate il padrone lassù, che faccia da miserere, Dio ce ne liberi! Ma che? Questo si chiama un magazzino, rispose Favier, non ho venduto nemmeno una capocchia di spillo. Aspettando i clienti, tutti e due si sussurravano così, senza guardarsi brevi frasi. Gli altri impiegati del reparto stavano riscontrando i cartellini, secondo gli ordini di Robineux, e Boutemont, intanto, tutto preso a discorrere con una signora giovane e magra, pareva prendesse a bassa voce una commissione importante. Intorno a loro, su mobili di fragile eleganza, le sete piegate in lunghi involti di carta color crema si ammucchiavano come opuscoli di insolito formato. E sui banchi, le sete fantasia, i rasi, i velluti, parevano viottoli coperti di fiori recisi, agli accoglienti una messe di tessuti delicati e preziosi. Era quello il reparto elegante, una sala vera dove le merci, leggere e costose, non erano altro che una mobiglia di lusso. Per domenica, riprese Eutan, ho bisogno di cento franchi. Se non guadagno in media i miei dodici franchi al giorno, sono bello e fritto. Ci avevo fatto affidamento su questa bella apertura. Cento franchi? Salute, disse Favier. Per me cinquanta o sessanta mi bastano. Voi non vi contentate, pare, di donnette di mezza tacca. Volete generi fini? Ma no, caro mio, figuratevi. Ho fatto una scommessa e l'ho persa e ora mi tocca invitare cinque persone, due uomini e tre donne. Si starà a vedere. La prima che passa le appioppo venti metri della paradiso. Seguitarono a chiacchierare per un altro po', raccontandosi quel che avevano fatto il giorno avanti e quel che si proponevano di fare la domenica a otto. Favier si divertiva a scommettere alle corse. A Eutan piaceva andare in barca e andare dietro alle cantanti dei caffè, ma avevano tutte e due un bisogno continuo di quattrini. Da lunedì al sabato si arrabattavano per guadagnare e la domenica rimanevano a tasche vuote. Nel magazzino non avevano altro pensiero che quello, né anche volendo avrebbero potuto liberarsene. E quel furbo di Boutemont che s'era presa per sé la donna invitata dalla sauveur, quella magra con cui discorreva, un buon affare, due o tre dozzine di pezze, perché la grande modista non comprava mai meno. Robineau, anche lui, aveva rubato una clienta a Favier. Oh, con lui, o prima o poi, si faranno i conti, ripresuta, che approfittava delle più piccole occasioni per mettere su tutto il reparto contro l'uomo del quale voleva il posto. Ok i capi e gli aiuti debbono vendere, parola d'onore, se mai diventassi io l'aiuto vedreste come vi tratterei voi altri. E tutta la sua presoncina normanna, grassoccia ed amabile, si atteggiava a facile bontà, energicamente. Favier non si poté trattenere dal gettargli un'occhiata di traverso, ma seppe osservare la sua calma d'ebilioso e si contentò di rispondergli «Lo so, lo so, a me non mi parrebbe vero». Poi, vedendo che veniva una signora, aggiunse a bassa voce «Attento, questa tocca a voi». Era una signora col viso tutto chiazze e rosee, col cappello giallo e un vestito rosso. Houtin indovinò subito che non veniva con l'intenzione di comprare. Si abbassò di colpo dietro il banco, fingendosi di rifarsi il fiocco a una scarpa e, nascosto a quel modo, mormorava «Questa no davvero, se la goto un altro, grazie tante!». Rubino intanto chiamava «A chi tocca? A Houtin? Dov'è Houtin?» e, poiché lui non rispondeva, toccò all'impiegato che era iscritto dopo servire quella signora. Era vero. La signora non voleva altro che dei campioni col prezzo. Eppure tenne lì l'impiegato più di venti minuti facendogli mille domande. Ma l'aiuto aveva visto Houtin rialzarsi da dietro il banco e, quando arrivò, un'altra cliente si fece avanti, intervenne con aspetto severo e trattenne il giovane. «Non sta a voi!» l'ho chiamato e, siccome eravate nascosto... «Ma io non ho sentito! Basta, basta! Andate a segnarvi ultimo! Via, monsieur Favier! Tocca a voi!». Favier, contentissimo in cuor suo, detto un'occhiata, come per scusarsi con l'amico. Houtin, con le labbra livide, aveva voltato il capo. Tanto più era arrabbiato perché conosceva la cliente, una bellissima bionda che capitava spesso nel reparto e che gli impiegati chiamavano tra loro «la bella signora», non sapendo di lei nemmeno il nome. Comprava molto, faceva portare la roba nella sua carrozza e... spariva. Grande, elegante, vestita con squisita raffinatezza. Doveva essere dell'alta società e assai ricca. «Dite un po'. E la vostra mantenuta?» domandò Houtin a Favier non appena questi tornò dalla cassa dove aveva accompagnato la signora. «Ma che mantenuta? Ha l'aria troppo per bene! Deve essere moglie di un banchiere o di un medico o che so io qualcosa del genere!» «Addio, caro! Quella è una mantenuta! Bisogna guardarsi dall'aria per bene!» Favier guardava il suo libretto delle fatture. «Mi importa assai!» riprese. «Le ho affibbiato oggi 286 franchi di roba! Quasi tre franchi per me!» Houtin si morse le labbra e sfogò il suo rancore sui libretti delle fatture. «Ci volevano anche i libretti per dar noia!» Tra lui e Favier c'era una sorda rivalità. Di solito quest'ultimo mostrava di tirarsi da parte davanti a Houtin e di riconoscerlo per superiore, salvo a fargliela zitto zitto dietro le spalle e per questo quei tre franchi guadagnati senza fatica da chi valeva meno di lui non gli andavano giù. Bella giornata davvero! Se continuava quel modo non avrebbe guadagnato nemmeno tanto da pagare l'acqua di selsa agli invitati e nella battaglia che si faceva più ardente passeggiava davanti ai banchi, a denti stretti, volendo anche lui la sua parte, pieno di invidia perfino per il suo capo che stava accompagnando quella donna magra e le andava ripetendo «Siamo intesi! Ditele che farò quanto potrò per ottenere anche questo favore da monsieur Mure!» Mure non era più da un pezzo nel mezzanino alla ringhiera della scala. A un tratto riapparvi in cima allo scalone che dava nel pian terreno ed anche di lì dominava tutto il magazzino. Il viso gli si stava colorendo, la fede gli tornava e gli dava animo, di fronte all'onda della gente che poco a poco invadeva il negozio. Era finalmente la ressa aspettata, la ressa di dopo colazione e della quale per un po' aveva nella sua febbre disperato. Tutti gli impiegati erano al loro posto. Un ultimo tocco di campana aveva avvertito che la terza tavolata era finita. Alla brutta mattinata, guastata di certo dall'acquazzone venuto verso le nove, si poteva ancora rimediare ora che il cielo azzurro della mattina aveva ripreso la sua allegria di vittoria. I reparti del mezzanino si animavano ed egli dovette mettersi da parte per lasciar passare le donne che un po' per volta salivano alla biancheria e all'abbigliamento, mentre dietro le spalle, nel reparto delle trine degli scialli, sentiva volare dalle labbra degli addetti grossi numeri. Ma la vista delle gallerie a pian terreno anche più lo tranquillizzava. Davanti alle mercerie e alle lane c'era una ressa da non potersi dire, una vera invasione. Le compratrici, quasi tutte in cappello, ora venivano in lunghe file, qua e là alcune buone massaglie in ritardo. Nella sala delle sete, sotto la luce bionda che veniva dall'alto, delle signore si erano levati i guanti per palpare dolcemente le pezze della Parigi Paradiso e discorrevano sommessamente come in un salotto. Non si ingannava più. I rumori che venivano da fuori erano rumori di carrozze, di portiere sbattute, frastuono di una calca sempre crescente. Sentiva che la macchina stava per muoversi, per riscaldarsi e rivivere. Dalle casse dove il danaro tintinnava, dalle tavole dove i garzoni si affrettavano a legare in pacchi le merci, fino alle profondità del sotterraneo, al servizio di spedizione, che era già pieno di pacchi e che col suo mormorio di sottoterra pareva facesse vibrare la casa. In mezzo alla moltitudine, l'ispettore Jouvet passeggiava gravemente, tutto attento se mai qualcuna delle solite ladri si intascasse la roba senza pagarla. «Toh!» disse Murea un tratto, riconoscendo Paul de Vallagnos, cui un garzone aveva fatto da guida. «No, no, non mi disturbi, e non hai che da starmi dietro se vuoi vedere tutto, perché oggi sto tutto il giorno sulla breccia!» Era ancora sempre un po' inquieto. La gente veniva, ma la vendita sarebbe poi stata quel trionfo che aveva sperato? Con tutto ciò rideva con Paul e se lo portò via con sé allegramente. «Sembra che le cose si mettano meno peggio», disse Utena Favier. «Ma io non ho fortuna. Ci sono certe giornate, parola d'onore, o che non ho fatto fiasco un'altra volta. Quell'accidente là non mi ha comprato nulla» e, alzando il mento, indicò una signora che se ne andava dando occhiate di disprezzo a tutte le stoffe. C'era proprio da ingrassare coi sui mille franchi di stipendio. Di solito, un giorno o l'altro si beccava sei o sette franchi, e così col fisso aveva in media una decina di franchi. Favier non arrivava a prenderne otto. Ed ecco che quell'asino gli rubava i migliori bocconi, perché aveva in quel momento venduto un vestito. Una tinca fredda mai capace di far sorridere una cliente. Era una disperazione. «I magliai e i gomitolai pare che facciano affari», mormorò Favier parlando dei venditori della maglieria e della merceria. Ma Uten, che con lo sguardo frugava tutto il magazzino, disse bruscamente «La conoscete, madame Desforges, l'amante del padrone? Eccola là, quella bruna che si fa calzare i guanti da mignò». Si calmò, poi soggiunse a voce bassa, come se parlasse a mignò, a cui non levava gli occhi di dosso. «Striscia, striscia, mi raccomando, bel mio cosino. Le conosco le tue conquiste. Non si fa più in là delle dita». Tra lui e il guantaio c'era rivalità di belli uomini, perché tutti e due ostentavano di intendersela con le clienti. Non avrebbero del resto potuto vantarsi di nessun vero successo. Mignò andava avanti sulla leggenda della moglie ed un commissario di polizia che si era innamorata di lui. Uten aveva in realtà conquistato una nastraia stanca di girare per tutte le camere ammobiliate del quartiere. Ma mentivano e lasciavano volentieri che gli altri credessero a misteriose avventure, ad appuntamenti dati tra una compere l'altra da qualche contessa. «Quell'alivi ci vorrebbe», disse Favier con la sua aria agrodolce. «Proprio!», esclamò Uten. «Se vieni qui, me la pappo io. Ho giusto bisogno di cinque franchi». Alla sezione dei guanti, tutta una fila di signore era seduta davanti allo stretto banco di velluto verde e con i bordi di metallo ossidato, e i commessi sorridenti ammucchiavano davanti a loro le scatole basse, d'un rosa acceso, che prendevano da sotto al banco stesso. Mignò più di tutti piegava la sua graziosa figura da bambola e dava tenere inflessioni alla sua voce un po' grossa di parigino. Aveva già venduto alla Desforges una dozzina di paia di guanti di capretto, sei bianchi, sei di tinte chiare, guanti paradiso, la specialità del magazzino. E ora lei si faceva provare dei guanti di Sassogna, temendo non le stessero bene. «Ma sta benissimo, signora!», ripeteva Mignò. «Il sei e un quarto sarebbe troppo grande per una mano come la sua». Curvo sul banco le teneva la mano, prendeva ad una ad una le dita, faceva calzare il guanto con una carezza lunga, stretta e ripetuta, e guardava la Desforges come se avesse aspettato che il suo viso desse segno di non poterne più dal piacere. Ma lei, col gomito dove finiva il velluto, col polso alto, gli porgeva le dita con l'aria tranquilla, con cui dava il piede alla cameriera perché la bottonasse gli stivaletti. Non era uomo per lei. Lo lasciava fare con quella familiare non curanza con la quale trattava le persone che la servivano, senza guardarle. «Le faccio male, signora?», rispose di no, con un cenno del capo. L'odore dei guanti di Sassogna, odore forte, selvaggio, quasi raddolcito dal muschio, di solito la turbava, e della stessa ne rideva qualche volta, confessando che le piaceva quel profumo diverso come se lo esalasse una bestia in amore, caduta nella scatola della cipria di una ragazza. Ma davanti a quel banco non sentiva nemmeno i guanti. Tra lei e quel tale impiegato che faceva il suo mestiere non mettevano nessun calore sensuale. «Vuole altro?» «No, grazie. Fate portare la roba alla cassa decima per Madame des Forges. Pratica della casa, dava il suo nome a una cassa e vi mandava le sue compere senza farsi seguire da un commesso. Non appena si fu allontanata, Mignot strizzò l'occhio volgendosi verso quello che gli stava accanto, per fargli credere che gli erano capitate cose straordinarie. Eh, mormorò unicamente. Mi piacerebbe inguantarla da capo a piedi. La des Forges intanto continuava le sue compere. Svoltò a sinistra e si fermò alla biancheria per comprare dei canovacci, poi fece il giro e si spinse fino alle lane, in fondo alle gallerie. Era contenta della cuoca e le voleva regalare un vestito. La sezione delle lane traboccava di gente. Tutte le borghesucce erano là a testare le stoffe e immergersi in calcoli muti, ed ella dovette mettersi un po' a sedere. Negli scaffali stavano in ordine le grosse pezze che gli impiegati a una a una mettevano giù con un brusco sforzo di braccia, e cominciavano così a non capirci più nulla. Tanto i banchi erano sovraccarichi di tessuti imbrogliati e di pezze disfatte. Pareva un mare tumultuoso di mezze tinte e tinte cupe, grigio ferro, grigi gialli, grigi azzurri, tra i quali splendeva qua e là il fondo rosso delle flanelle scozzesi, e i cartellini bianchi delle pezze parevano rari fiocchi di neve caduti sopra un suolo nero di dicembre. Dietro una montagna di stoffe, Lienard se la rideva con una ragazza senza cappello. Un'operaia del quartiere mandata dalla padrona per cercare di accompagnare un certo merino. Quei giorni di gran vendita che gli spezzavano le braccia, lui non li poteva soffrire, e cercava di lavorare meno che potesse, mantenuto come era largamente dal padre e infischiandosene di vendere. Faceva proprio quel tanto che bastasse a non essere messo fuori. «Ma state dunque a sentire, Madame Fanny», diceva egli. «Avete troppa fretta. Quella vigogna, a spina, andava bene ieri l'altro. La gratificazione verrò a pigliarla da voi». Ma l'operaia scappò via ridendo, e Lienard si trovò di fronte alla desforge, alla quale dovette per forza domandare «In che posso servirla?». Volevo un vestito che non costasse molto, ma resistente. Lienard, che sempre badava a non stancarsi le braccia e non aveva altro pensiero che quello, fece di tutto per farle prendere una delle stoffe che stavano belle spiegate sul banco. C'erano dei cashmere, delle saie, delle vigogne, e lui giurava che non c'era nulla di meglio che nemmeno a volere si poteva consumare quella roba lì. Ma nessuno di quei tessuti parve contentarla. In uno scaffale aveva notato un certo scozzese azzurro che volle vedere, e a Lienard toccò decidersi a metterlo giù. Le parve troppo rozzo. Passò allora alle diagonali, ai grigi, ai tessuti a spiga, tutte le diverse specie di lana che ebbe la curiosità di toccare per divertimento, senza che poi le importasse molto comprare piuttosto una che un'altra. Il giovane dovette così votare gli scaffali più alti. Le spalle gli scricchiolavano. Il banco non si vedeva più sotto il nastro serico dei cashmere e delle popelin, sotto il pelo ruvido delle cheviot, sotto la molle peluria delle vigogne. Tutti i tessuti e tutte le tinte passarono a mano a mano sotto i suoi occhi. Si fecero perfino mostrare, senza avere al solito nessuna voglia di comprare, delle grenadine e delle gaze di Chambéry. Poi, quando nebbe abbastanza? Oddio mio, la prima è sempre la migliore, tanto è per la mia cuoca. Sì, quella saia a piccoli puntolini, quella da due franchi. E quando Lienard, il livido di colla era trattenuta, ebbe misurato, abbiate la compiacenza di portarla alla cassa decima per Madame des Forges. In quel mentre, nell'andarsene, vide accanto a sé la Martì con la sua Valentin, un pezzo di ragazza di quattordici anni, magra e slanciata, che dava già le stoffe delle occhiate da donna. Guarda, siete voi? Io in persona? E che folla? Non me ne parlate, si soffoca, un trionfo, un vero trionfo! E avete visto il salotto orientale? Stupendo, magnifico! E in mezzo alle gomitate sballottate tra la calca sempre crescente delle clienti meno agiate, le quali si buttavano addirittura sulle lane a buon prezzo, si misero a discorrere dell'esposizione dei tappeti senza trovare parole sufficienti per il loro entusiasmo. Poi, la Martì spiegò che cercava la stoffa per un mantello, ma non sapeva ancora bene quel che avrebbe preso, e intanto si era fatta mostrare del trapunto di lana. Ma guarda, mamma, mormorò Valentin, è troppo comune! Venite alle sete, disse la Desforges. Bisogna pur vederla la famosa Parigi Paradiso. Per un po' la Martì esitò, costava cara e aveva solennemente giurato al marito di aver giudizio. Da un'ora non faceva che comprare. E già aveva dietro una montagna di fagotti, un manicotto e delle gaie per lei, delle camicie per la figlia. Ma finalmente disse al commesso che mostrava il trapunto, no no, vado alle sete. Non è quel che volevo io. Il commesso presi i pacchi e si avviò avanti a loro. Anche alle sete c'era la stessa ressa. Si accalcavano soprattutto davanti alla vetrina interna messa in ordine da Houten e che Muret stesso aveva ritoccata da maestro. In fondo alla sala, intorno a una delle colonne di ferro fuso che sostenevano la vetrata, c'era come una cascata di stoffa che cadeva dall'alto e si allargava fino in terra. Da prima rasi chiari e sete pallide, i rasi regina, i rasi rinascimento, dalle tinte madre perlace ed acqua disorgente, le sete leggere con le trasparenze del cristallo, verde nilo, cielo indiano, rosa di maggio, azzurro danubio. Poi venivano i tessuti più forti, i rasi meravigliosi, le sete duchessa, a tinte calde che venivano giù a ondate consistenti e in basso, come in una vasca, dormivano le stoffe pesanti, i corpetti belle fatti, i damaschi, i broccati, le sete perlate e rigate in mezzo a un letto profondo di velluti neri, bianchi, colorati a fondo di sete di raso, che con le loro macchie variegate formavano un lago immobile dove pareva danzassero riflessi di cielo e di paesaggio. Alcune donne, pallide di desiderio, si chinavano quasi per specchiarvisi. Tutte di fronte a quella cateratta e rompente restavano ammirate, con la paura nascosta di essere prese nello straripamento di quel lusso e con la voglia irresistibile di gettarvisi e perdersi. «Ah, ci sei!» disse la desforge, trovando la burdele davanti a un banco. «Tah, buongiorno!» rispose quella stringendo la mano alle signore. «Sì, vengo per vedere qualche cosa». Non è vero che è una cosa stupenda? C'è da sognarselo. È il salotto orientale. L'hai visto il salotto orientale? E come se l'ho visto? Meraviglioso! Ma sotto quell'entusiasmo che avrebbe fornito argomento di discorso per quel giorno a tutto il bel mondo, la burdele non perdeva il suo sangue freddo di pratica massaia. Esaminava con cura una pezza Parigi paradiso, perché era venuta soltanto per approfittare del prezzo bassissimo di quella seta se l'avesse trovata buona. Ne fu senza dubbio contenta, perché ne chiese 25 metri pensando di fare un vestito per lei e un paltoncino per la sua bambina. «Come? Te ne vai di già!» disse la desforge. «Fai un giro con noi!» «No, grazie, mi aspettano a casa. Con questa calca non ho voluto portarmi dietro i bambini». E se ne andò, preceduta dal commesso che portavi 25 metri di seta e che la condusse alla cassa decima dove il giovane Albert perdeva la testa in mezzo alle tante domande di fatture che lo tempestavano. Quando il commesso poté avvicinarsi, dopo aver segnata nel suo libretto la vendita con un tocco di matita, annunciò ad alta voce la sua vendita e il cassiere la scrisse nel suo registro. Poi vi fu una controchiamata e il foglietto staccato dal libro fu infilato in un ferro a punta, accanto al bollo col quale si saldavano le fatture. «Centoquaranta franchi!» disse Albert. La Bourdelet pagò e dia del suo indirizzo, perché era venuta a piedi e non voleva quell'ingombro con sé. Dietro la cassa, Joseph teneva già la seta e la riavvolgeva. Poi, l'involto, gettato in un cesto con le ruote, fu spinto fino all'ufficio di spedizione che a mano a mano si veniva riempendo. Pareva ora che tutte le merci del magazzino volessero cadere laggiù con un rumore da chiusa. Già alle sete, tale tanta gente faceva ressa che la Desforges e la Marti non potevano subito trovare un commesso libero. Rimasero ritte, confusi in quella folla di signore che guardavano le stoffe, le palpavano e stavano lì, ferme delle ore, senza risolversi. Ma sopra le altre la vinceva di gran lunga la Parigi Paradiso, per la quale andava crescendo a poco a poco una di quelle ammirazioni che da un momento all'altro fa mutare la moda. Tutti i commessi non facevano che misurare. Sopra i cappelli si vedevano luccicare nel loro pallido colore le pezze spiegate e il continuo correre delle dita lungo i metri di legno sospesi a colonnette di ottone. Si sentiva il rumore delle forbici che tagliavano il tessuto, senza tregua, a mano a mano che la seta era sballata, come se non vi fossero state braccia che bastassero alle mani avide e tese delle clienti. «Davvero che per 5,60 è carina?» disse la desforge, che era riuscita ad agguantarne una pezza sull'orlo di una tavola. L'Amarty e Valentin non erano invece contente. I giornali ne avevano parlato tanto che si aspettavano qualcosa di più lucido e forte. Ma Butemont aveva riconosciuta la desforge e si faceva avanti con la sua cortesia un po' volgare per fare anche lui la sua corte a una bella signora che dicevano potesse tutto sull'animo del padrone. Ma come? Non la servivano? Ci voleva una pazienza. Ma doveva mostrarsi indulgente, perché davvero non sapevano più dove sbatter la testa, e cercava delle seggiole in mezzo alle gonnelle, ridendo col suo riso bonaccione, nel quale si palesava un amore brutale per la donna che non pareva desse noia ad Henriette. «Guardate!» mormorò Favier mentre andava a prendere una scatola di velluti in uno scaffale dietro Houtin. «Ecco Butemont che vi ruba la vostra signora». Houtin aveva dimenticata la desforge, perché una vecchia l'aveva fatto uscire dai gangheri col tenerlo lì un quarto d'ora per comprare un metro di raso nero per una vita. Quando c'era fretta, non si teneva più nessun conto dell'ordine scritto nella lavagna. Ciascuno serviva alla cliente che poteva, e già Houtin rispondeva a Madame Boutarelle, che consumava la giornata al Paradiso delle Signore, dove era già stata per tre ore nella mattinata, quando l'avviso datogli dal Favier lo scosse. Sta a vedere che perdeva anche la bella amante del padrone, dalla quale aveva giurato di spillare cinque franchi. Sarebbe stata proprio una sfortuna, perché ancora non si era procurato tre franchi con tutte quelle altre avaracce. Butemont, proprio in quel momento, ripeteva con quanta voce aveva in gola «Via, via, qualcuno qui!». Allora Houtin lasciò la butarella a Robinò, che stava senza far nulla. «Ecco, signora, rivolgetevi all'aiuto. Vi risponderà meglio di me!». E accorse, facendosi dare le compere della Martì dal commesso delle lane che aveva accompagnato le Signore che stava sempre aspettando. Quel giorno il suo eccitamento nervoso doveva trarlo in errore per quanto accorto fosse. Di solito gli bastava un'occhiata per sapere se una donna veniva per comprare e quanto avrebbe comprato. Poi dominava la cliente imponendole quel che voleva lui e persuadendola che sapeva meglio lui di lei stessa ciò che le conveniva. «Che sorta di seta desidera la signora?». Chiese quanto più amabilmente potè. La desforge non aveva aperto bocca, che già riprese «Capisco, eccola qui». Quando la pezza Parigi-Paradiso fu spiegata da una parte del banco, tra mucchi ed altre sete, la Martì e la figlia si avvicinarono. Houtin, un po' inquieto, capì che si trattava da principio di un vestito per quelle due. La desforge dava consigli all'amica con parole scambiate a mezza voce. «Eh, sicuro, questo si intende», mormorava. «Una seta da 5,60 non sarà mai una seta da 15 e nemmeno da 10 franchi». «È un po' cenciosa», ripeteva la Martì. «Ho paura che per un mantello non abbia abbastanza consistenza». Questa osservazione indusse Houtin a mettere bocca in quei discorsi. Sorrideva e aveva la cortesia esagerata di chi non può ingannarsi. «Ma, signora, la morbidezza è il vero pregio di questa seta. Non si maltratta mai. È proprio quel che ci vuole per lei». Le signore a quel tono così sicuro si zittirono. Avevano ripigliato la stoffa e la esaminavano di nuovo quando si sentirono toccare sulla spalla. Era la Ghibal che da un'ora passeggiava per il magazzino dando ai suoi occhi la gioia di tante belle cose ammucchiate senza comprare nemmeno un metro di bordato. Le chiacchiere si riaccesero ardenti. «Come, come? Proprio voi! Sì, sono io, ma un po' sciupata dalle spinte. Che affare? Ce n'è della gente, non ci si rigira più. E il salotto orientale? Stupendo! Che trionfo, Dio mio, che trionfo! State con noi, andremo insieme di sopra. No, grazie, ci sono stata ora!» Utena aspettava, nascondendo la sua impazienza col sorriso che aveva sempre sulle labbra. Ma dunque lo volevano tenere lì delle ore. Veramente le signore si davano poco pensiero di lui. Quello era un vero rubare. Finalmente la Ghibal se ne andò e continuò la sua lenta passeggiata girando attorno alla grande vetrina delle sete con molta ammirazione. «Io, se fossi in voi, comprerei il mantello bellefatto!» disse la desforge tornando di colpo alla Parigi Paradiso. «E vi costerebbe meno caro!» «È vero che con le guarnizioni la fattura!» mormorò Lamarty. «E poi si può scegliere!» Tutte e tre si erano alzate. La desforge riprese, volgendosi a Uten. «Conduceteci all'abbigliamento!» Restò come fulminato. A buche di quel genere non c'era abituato. «Ma come?» La signora Bruna non comprava nulla. Dunque si era ingannato. Lasciò andare Lamarty e insiste con Henriette, volgendo su lei tutta la sua potenza di esperto venditore. E la sua voce era pregna di seduzione quando le domandò «E la signora non desidera vedere i nostri rasi, i nostri velluti? Abbiamo stoffe mai viste?» «Grazie, un'altra volta!» rispose lei tranquillamente, non guardandolo più che non avesse guardato Mignon. Uten dovette pigliarsi le compere della Martì e avviarsi per condurre le signore all'abbigliamento. Ma ebbe anche questo dolore. Vide il robinò vendere alla Butarelle parecchi metri di seta. Era finita per lui. Non c'era più da guadagnare quattro soldi. La sua rabbia ad uomo derubato, spolpato dagli altri, si faceva anche più acre sotto quella cortesia costretta dei modi. «Al primo piano, signore!» disse senza smettere di sorridere. Non era facile arrivare alla scala. Una marea di teste ondeggiava sotto le gallerie e s'allargava in un lago straripato in mezzo alla grande sala. E ne saliva il frastuono d'una vera battaglia. Gli impiegati avevano in loro balia quel popolo di donne che si passavano dall'uno all'altro gareggiando in sveltezza. Era venuta all'ora del moto terribile del dopo mezzogiorno quando la macchina calappiava tutta forza i clienti e succhiava loro il denaro dalla carne. Alle sette soprattutto pareva che ispirasse un vento di pazzia. La Parigi Paradiso richiamava una folla tale che per qualche minuto Houtet non poteva fare un passo e Deriette, quasi soffocata, nell'alzar gli occhi vide lassù sulle scale, mure che tornava sempre in quel punto da cui ammirava la propria vittoria. Gli sorrise, sperando che sarebbe sceso a liberarla da quella stretta. Ma egli non la poteva distinguere fra tanta calca. Era sempre con Vailagnos, occupato a mostrargli la casa, con faccia raggiante. Il fremito interno soffocava ora ogni suono di fuori. Non si sentiva più né il rumore delle carrozze né lo sbattere delle portiere. Di là dal gran fragore della vendita si indovinava Parigi immensa, d'una immensità che fornirebbe sempre nuovi compratori, nell'aria immobile e pesante, nella quale il caldo del calorifero intiepidiva l'odore delle stoffe. Aumentava il frastuono fatto da tutti i rumori, dal continuo scalpiccio, dalle medesime frasi ripetute cento volte intorno ai banchi, dall'oro che tintinnava sul rame delle casse accerchiate da mille portamonete, dalle ceste a ruote che portavano continuamente nei sotterranei spalancati, i carichi dei pacchi. E sotto il polverio tutto veniva a confondersi. Non era più possibile distinguere un reparto dall'altro. Laggiù la merceria pareva inondata, più lontano, alla biancheria, una striscia di sole. Entrata dalla vetrina di Rue Neuve Sant'Agustin pareva una freccia d'oro nella neve. Qui, ai guanti e alle lane, una siepe di cappelli di trecce di chignon sbarrava il fondo del magazzino. Non si vedevano neppure più i vestiti. Le teste solo erano a galla variopinte di nastri e di penne. Dei cappelli d'uomo ponevano qua e là alcune macchie nere, mentre le donne, affaticate tra quel caldo, divenivano di un pallore trasparente come le camelie. Finalmente, grazie ai suoi gomiti vigorosi, Uten fece strada alle signore, precedendole. Ma quando ebbe salita la scala, Eriette non trovò più mure che aveva ficcato Valagnoche nel mezzo della calca per meglio ubriacarlo, e perché egli stesso era preso dal bisogno fisico di tuffarsi in quella folla che era segnacolo della sua vittoria. Gli mancava il respiro e ne godeva. Gli sembrava, sentendosi così pigiato, da abbracciare tutta quanta la clientela. «A sinistra, signore», disse Uten, sempre cortese per quanto la stizza gli andava crescendo. Al primo piano non c'era ressa minore. Perfino la sezione della mobilia, che era di solito la più quieta, era invasa. Gli scialli, le pellicce, le biancherie riboccavano di gente. Mentre le signore, traversavano il reparto delle trine, si imbatterono in un'altra amica. La de Boves, con la sua blanche, era lì, ingolfate nelle trine che Deloche mostrava loro, e Uten dovette fermarsi un'altra volta con il pacco in mano. «Buongiorno, pensavo proprio a voi. Io vi ho cercata, ma come si fa a ritrovarsi con tutta questa gente? Bellissimo, non è vero? Splendida, mia cara. Non ci reggiamo più dritte. E comprate? No, no, si guarda. Così a sedere ci si riposa un po'. La de Boves, infatti, non avendo nel portamonete altro che i soldi per la vettura, si divertiva a far uscire dalle scatole ogni sorta di trine, tanto per vederle e toccarle. Si era accorta che Deloche era un principiante, lento e maldestro, che non osava resistere ai capricci delle signore, e abusava della sua affaccendata compiacenza, tenendolo lì da una buona mezz'ora, chiedendogli sempre altra roba. Il banco traboccava di trine, ed ella vi ficcava le mani con le dita che le tremavano dal desiderio in mezzo a quelle malin, Valenciennes, Chantilly, e col viso riscaldato a poco a poco da una gioia sensuale. Blanche accanto a lei, presa dalla stessa passione, era divenuta pallida pallida nel suo viso grassoccio e molle. La conversazione intanto seguitava. «Huten le avrebbe prese a schiaffi, costretto ad aspettare immobile quanto piaceva a loro di trattenerlo». «Toh!» disse Lamarty. «Voi guardate delle sciarpe e dei fazzoletti come quelli che vi feci vedere ieri l'altro». Era vero. La Debove, tormentata fin dal sabato dalle trine Lamarty, non aveva potuto resistere al bisogno di tuffarci almeno le mani, dato che non era lecito per la ristrettezza in cui la teneva il marito di portarsele via. Arrossì un po' e disse che era stata Blanche che aveva voluto vedere delle sciarpe di trina spagnola. Poi aggiunse «Voi andate all'abbigliamento. A fra poco. Ci si deve ritrovare nel salotto orientale. Sì, nel salotto orientale. Com'è bello, eh!» Si separarono con grandi esclamazioni in mezzo alla calca che si era fatta intorno alle trine da poco prezzo. Deloche, tutto contento davvero da fare, si era rimesso a vuotare le scatole davanti alla mamma e alla figlia. E l'ispettore Jouvet passeggiava piano piano tra i gruppi affollati lungo i banchi, mettendo in mostra la sua medaglia e aprendo bene gli occhi su quelle merci così fini e preziose che tanto facilmente si possono nascondere sotto un soprabito o dentro una manica. Quando passò dietro alla Debove, sorpreso nel vederla col braccio tuffato in un sifatto mucchio di Malina e Valenciennes, gettò un'occhiataccia a quelle mani febbrili. «A destra, signore!» disse Eutain ricominciando a far da guida. Non ne poteva più. Non bastava in non avergli comprato nulla. A ogni svoltata lo tenevano fermo un'ora e nella sua bile c'era soprattutto la gelosia delle sezioni e dei tessuti verso quelle dell'abbigliamento. Era guerra ogni minuto. Si litigavano le clienti, si rubavano tra loro la percentuale e le gratificazioni. Quelli della seta, anche più di quelli delle lane, erano furibondi quando dovevano condurre all'abbigliamento una signora che risolveva di comprarsi un mantello bell'effatto dopo essersi fatta mostrare del fai. «Mademoiselle Claire!» disse Eutain con voce da cui trapelava la stizza quando finalmente giunsero nel reparto. Ma Claire passò senza dargli retta, assorta come era in una vendita che si impegnava a sbrigare. La stanza era piena. La folla la riempiva tutta per lungo, dalla porta delle trine a quella della biancheria che era di fronte, e in fondo alcune signore si provavano dei vestiti, voltandosi, curvandosi e raddrizzandosi davanti agli specchi. Il tappeto rosso smorzava il rumore dei passi. La voce alta e lontana del pian terreno si andava via via estinguendo. Non c'era là dentro che il discreto mormorio e il caldo di un salotto fatto più grave dalla ressa delle signore. «Mademoiselle Marguerite!» disse più forte Eutain, e siccome nemmeno lei si fermava, aggiunse fra i denti, in modo che non lo potessero sentire, «Canaglia!» Le odiava, costretto a rompersi in quel modo le gambe su e giù per la scala per portare loro le clienti, e fuori di sé perché, secondo lui, gli rubavano proprio di tasca il guadagno. Era quella una guerra sotto sotto nella quale esse non combattevano con minor grinta, e stanchi della comune fatica, sempre ritti, divenuti macchine, al sesso non si badava più. E non restavano le une contro le altre armate se non le opposte avidità, incitate da una febbrile smania di vendere. «Ma non c'è nessuno, dunque!» chiese Eutain. A un tratto si accorse di Denise. Fin dalla mattina non faceva che spiegare e ripiegare. Non le avevano concesso che di tentare poche vendite, di esito dubbio, e che a lei non era riuscito di condurre in fondo. Quando la vide la riconobbe, mentre stava a sbarazzare un banco da un mucchio enorme di vestiti, corse a cercarla. «Ecco, signorina, servite queste signore che aspettano!» e le mise di colpo sulle braccia le compere della Martì, che era stanco di portare per il magazzino. Il suo sorriso tornava a galla, e c'era in quel sorriso la segreta cattiveria di un venditore esperto, che si immaginava già l'imbroglio delle signore e della ragazza. Ma questa era commossa grandemente dall'occasione non sperata che le si presentava. Per la seconda volta, Utelle appariva come un amico sconosciuto, quasi un fratello che stesse sempre pronto nell'ombra a salvarla col suo amore. Gli occhi le splenderono di gratitudine e andarono dietro al giovane con un lungo sguardo mentre lui, a forza di gomiti, cercava di tornare più presto che poteva al suo reparto. «Volevo vedere dei mantelli», disse la Martì. Allora Denise le domandò che genere di mantelli volesse. Ma la cliente non lo sapeva. Desiderava soltanto vedere i mantelli che c'erano. E la ragazza, che era già stanchissima, sbalordita dalla gran gente, perse la testa. A Valogna e da Cornei non aveva servito che poche persone di quando in quando, e qui non sapeva ancora quanti modelli ci fossero e dove fossero negli armadi. Per questo non le riusciva di rispondere a modo alle due amiche, che ci si stizzivano quando Madame Aurelie vide la desforge. Doveva sapere di chi era l'amante, perché si affrettò ad accorrere sorridendo «Sono servite le signore?» «Sì, quella ragazza che cerca laggiù. Ma non pare che se ne intenda molto, non trova mai nulla». La direttrice non fece né uno né due. Andò da Denise e a bassa voce le sussurrò «Ma non vedete che non sapete fare nulla? State qui e non vi muovete!» «E chiamando Mademoiselle Marguerite un mantello!» Rimase lì mentre Marguerite mostrava i modelli. Aveva Marguerite una certa voce seccamente cortese e il fare spiacevole di una ragazza vestita di seta che a forza di strofinarsi all'eleganza ne ha tratto gelosia e rancore. Quando sentì che Lamartine non voleva spendere più di 200 franchi, fece una smorfia di compassione. Con 200 franchi non era possibile che trovasse qualcosa per bene e buttava sul banco i mantelli ordinari con gesto che voleva dire «Non vedete che porcheria?» Lamartine non osava più dire che le piacevano. Si chinò all'orecchio della desforge «Non è vero che gli uomini servono meglio? Con loro si sta più libere!» Finalmente Marguerite mostrò un mantello di seta guarnito di jet, con aria più rispettosa, e Madame Orelie chiamò con voce severa Denise «Venite qua! Servite a qualcosa almeno! Su, mettetevi un po' questo mantello!» Denise, ferita nel cuore, disperando di poter mai riuscire bene in quel magazzino, era rimasta immobile, con le mani a penzoloni. Non ci poteva più essere dubbio. Si sentiva sdrucciolare la licenza e pensava che i ragazzi non avrebbero più avuto nemmeno un pezzo di pane. Il frastuono della folla le rumoreggiava nel capo, barcollava, i muscoli non le reggevano più, stanchi da aver alzato tanti mucchi di vestiti, lavoro da facchino, che lei non aveva fatto mai. Non di meno si avvicinò e lasciò che Marguerite le mettesse addosso il mantello come sopra un fantoccio. «State su dritta!» disse Madame Aurelì. Ma quasi subito dimenticarono lei e il mantello. Mure era entrato con Valagnoche e Bordoncle, salutava le signore e accoglieva i loro complimenti per la magnifica esposizione delle novità d'inverno. Naturalmente parlavano soprattutto del salotto orientale. Valagnoche, che aveva finito la sua visita lungo i banchi, mostrava più meraviglia che ammirazione. In fondo in fondo pensava lui nella sua trasformazione, scorataggine di pessimista, non c'era altro che cotone e poi cotone e poi cotone, una merceria in grande. Quanto a Bordoncle, anche lui, dimenticandosi d'essere della casa, faceva i suoi complimenti al padrone affinché questi dimenticassi i dubbi e le inquiete domande con cui lo aveva tormentato nella mattinata. «Sì, sì, va bene, sono contento!» ripeteva Mure raggiante e rispondeva con sorrisi alle occhiatine dolci di Harriet. «Ma io non la voglio disturbare!» Allora tutti gli occhi furono di nuovo su Denise, che si abbandonava alle mani di Marguerite, la quale la faceva lentamente girare su se stessa. «Che ve ne pare?» chiese l'amartia alla desforge. La desforge la consigliava come arbitra suprema della moda. «Non c'è male, e il taglio è originale, ma mi sembra poco aggraziato in vita!» «Oh!» esclamò la signora Orelie. «Bisognerebbe vederlo indosso alla signora! Sulla signorina non può fare effetto vestita a quel modo! Radrizzatevi, signorina! Fate valere il mantello per quel che vale!» Sorrisero tutti. Denise si era fatta pallidissima. Si vergognava di essere cambiata a quel modo in una macchina messa in mostra e canzonata. La desforge, cedendo all'antipatia che quel viso dolce di ragazza destava nell'indole sua tanto diversa, aggiunse malignamente «Starebbe meglio, certo, se il vestito della signorina fosse meno largo!» e gettò a Mouret l'occhiata canzonatrice di una parigina che ride della goffaggine d'una provinciale. Mouret sentì la carezza amorosa di quell'occhiata, il trionfo della donna contenta della bellezza e dell'arte sua e, per gratitudine d'uomo adorato, credette suo dovere canzonare anche lui Denise per quanto lei esercitasse un fascino segreto nella sua indole d'uomo galante. «E poi bisognerebbe che fosse pettinata!» mormorò. «Fu finita!» Il direttore si degnava di sorridere. Tutte le ragazze dettero in uno scrocio di risa. Marguerite finse di non poterne più da ragazza per bene che è costretta a trattenersi. Claire, per potersi sfogare a suo piacere, aveva lasciato andare una vendita. Perfino delle ragazze della biancheria erano a corsa al rumore. Le signore si divertivano più discretamente, con aria di persone che san vivere e che se la intendono tra loro. Soltanto il profilo imperiale di Madame Aurelie non rideva, come se i bei capelli selvaggi e le sottili spalle verginali della principiante l'avessero disonorata facendo trovar da ridire sul suo reparto. E Denise si era fatta sempre più pallida, in mezzo a tutta quella gente che la canzonava. Si sentiva crudelmente oltraggiata, messa a nudo da quegli sguardi, senza nessuna difesa. Che cosa aveva fatto lei perché se la pigliavano tanto con la sua vita troppo sottile e coi capelli troppo folti? Ma più duramente soffriva e il cuore le si accasciava in un dolore nuovo ed acuto per il sorriso della desforce di Mouret, indovinando istintivamente i loro rapporti. Doveva essere molto cattiva quella signora che dava noia così a una povera ragazza che non apriva bocca. E Mouret le faceva gelare il sangue nelle vene, con uno spavento nel quale tutti gli altri suoi sentimenti naufragavano senza che lei potesse analizzarli. Allora, abbandonata da tutti, colpita nei suoi più intimi pudori di donna e non sapendo tollerare l'ingiustizia, dovette soffocare i singhiozzi che le salivano alla gola. «Avete capito? Che domani sia pettinata, così è indecente!» ripeteva a madame Aurelie il terribile bourdoncle, che fin dal primo giorno aveva condannato Denise, sprezzando le sue piccole membra. E la direttrice venne finalmente a levarle il mantello sulle spalle, dicendole a bassa voce «Bel principio, signorina! Davvero, se avete voluto darci prova di quel che sapete fare, più sciocca di così non si può essere!» Denise, per la paura che le lacrime le scappassero dagli occhi, si affrettò a tornare ai mucchi di vestiti che portava via e che metteva in ordine sopra un banco. Là almeno era confusa tra la folla, e la fatica le impediva di pensare. Ma sentì a un tratto accanto Pauline, la ragazza della biancheria che quella mattina stessa aveva preso le sue difese. Aveva ora visto tutto e le mormorava all'orecchio «Pigliola mia, non bisogna pigliarsela tanto! Buttate giù, buttate giù! Se se ne accorgono, ve ne faranno delle altre! Io che vi parlo sono di Chartres! Già, sicuro, Pauline Cugnot! E i miei fanno i mugnai laggiù! Vedete, ma avrebbero mangiata viva i primi giorni se non avessi mostrato i denti subito! Su, su, coraggio! Datemi la mano! Quando vorrete faremo due chiacchiere!» Quella mano che le era tesa raddoppiò il turbamento di Denise. La strinse di nascosto e si affrettò a sollevare sulle braccia un mucchio di mantelli, temendo di far altri errori ed essere sgridata da capo se sapevano che aveva un'amica. Madame Aurelì intanto aveva posato con le sue mani il mantello sulle spalle della Martì ed esclamava «Bene! Benissimo! Sta a meraviglia!» pareva un altro. La desforge sentenziò che non si poteva trovare di meglio. Si vene ai saluti, Mure si congedò e Vallagnos, che alle trine aveva visto la Debove, corse ad offrire alla madre il suo braccio. Marguerite, dritta davanti a una delle casse del magazzino, numerava le diverse compere della Martì, la quale pagò e ordinò che le portassero il pacco nella carrozza. La desforge aveva ritrovato tutta la sua roba alla cassa decima. Poi le signore si videro nel salotto orientale. Se ne andavano, ma non senza un altro infinito chiacchiericcio d'ammirazione. La stessa Gibal si esaltava «Che bellezza! Che bellezza! Non è vero? Pare un harem, un vero harem! E quei tappeti non costano nemmeno cari! Quelli di Smirne! Oh, quelli di Smirne! Che colori! Che eleganza! E quello del Kurdistan? Ma guardate, è un vero quadro di Delacroix!» La calca poco per volta diminuiva. Delle scampanellate, a un'ora di intervallo, avevano già suonato le due prime tavolate della sera. Stava per essere servita la terza, e nei reparti, a mano a mano deserti, non restavano più se non delle clienti indugiate che, prese dalla febbre dello spendere, dimenticavano anche l'ora. Di fuori non veniva più che il rumore delle ultime vetture in mezzo alla voce di Parigi, simile a quella d'un orco ben pasciuto che russasse, digerendo le tele e le stoffe, le sete e le terine, delle quali l'avevano inseppato fin dalla mattina. Dentro, sotto le fiammelle del gas, che avevano rischiarato nel crepuscolo le ultime vendite, sembrava un campo di battaglia caldo ancora della strage dei tessuti. I venditori, sfiniti dalla fatica, erano quasi accampati tra gli scaffali tutti sottosopra e i banchi, che sembravano devastati da una bufera. Nelle gallerie del pian terreno, ingombrate dalle seggiole, fuori posto, si camminava fatica. Ai guanti bisognava attraversare, alzando la gamba, un monte di scatole che Mignot aveva lasciato andare giù. Alle lane non ci si passava affatto. Lineart sonnecchiava sopra un mare di stoffa, dove erano ancora in piedi qua e là delle colonne di pezze che, distrutte per metà, parevano case che un fiume straripato avesse portato via e, più lontano, la biancheria era caduta come neve per terra. Si inciampava nei mucchi dei tovaglioli, si camminava sui fiocchi leggeri dei fazzoletti. E, al primo piano, non minore che al mezzanino, lo scombussolamento. Le pellicce stavano qua e là sul pavimento. I vestiti belli e fatti si ammucchiavano come cappotti di soldati messi fuori combattimento. Le trine la biancheria spiegate, spiegazzate, buttate a caso, facevano pensare a un intero popolo di donne che si fossero spogliate là, nei disordinati impulsi di un imprevisto desiderio. In fondo al magazzino, l'ufficio di spedizione, tutto affacendato, non faceva che mandar via i pacchi dei quali era pieno zeppo, e che le vetture si portavano via, ultimo moto della macchina scaldata tanto da scoppiare. Ma alle sete, specialmente, si era fatta la gran retata delle clienti. Là avevano fatto piazza pulita. Vi si poteva passare liberamente. La sala restava vuota. Tutta l'enorme provvista della Parigi Paradiso era stata tagliata e portata via, come da una tribù di cavallette devastatrici, e, in mezzo a quel vuoto, Houten e Favier sfogliavano i loro libretti delle fatture, calcolando quel che veniva loro, ardenti ancora per il combattimento. Favier aveva guadagnato 15 franchi. Houten non aveva potuto arrivare che a 13, sconfitto quel giorno e fu ribondo della sua cattiva fortuna. I loro occhi si accendevano della passione del guadagno, e tutto il magazzino intorno a loro non faceva che sommar cifre, acceso dalla stessa febbre che nella gagliezza brutale delle sere dopo una strage. «Dunque, Bordoncle!» esclamò Muret. «Avete paura anche ora?» Era tornato al suo posto favorito, sull'alto della scala del magazzino, appoggiato alla ringhiera, e dinanzi alla strage delle stoffe che si stendeva sotto di lui, sorrideva da vincitore. I suoi timori della mattina, quel momento di imperdonabile debolezza che nessuno mai avrebbe saputo, gli faceva provare il bisogno di un trionfo anche più clamoroso. La guerra era dunque vinta davvero. Il commercio minuto del quartiere, bell'e rovinato, il barone Hartman conquistato coi suoi milioni e i suoi terreni. Mentre guardavi i cassieri che, curvi sui loro registri, tiravano la somma di lunghe colonne di cifre, mentre ascoltava il tintinio dell'oro che dalle loro dita cadeva nelle ciotole di rame, vedeva già il paradiso delle signore ingrandirsi smisuratamente, allargare la sala centrale e prolungare le gallerie fino alla rue du dit de Sambre. «Eh, Burdoncle!» ripresa a dire. «Lo vedete sì o no che la casa è troppo piccola? Si poteva vendere il doppio di roba!» Burdoncle si faceva piccino piccino, contentissimo del resto d'aver avuto torto. Ma divennero di nuovo gravemente seri quando videro passare il cassiere. Tutte le sere l'homme, primo cassiere della vendita, radunava tutti gli incassi di ciascun reparto e, dopo aver fatto la somma, affiggeva un foglio dove era indicato il totale e saliva poi con il danaro nel portafoglio o nei sacchi, secondo che era carta o moneta, alla cassa centrale. Quel giorno l'oro e l'argento sovrabbondavano ed egli saliva lentamente la scala con tre sacchi enormi. Non avendo il braccio destro, che gli era stato tagliato alla spalla, li stringeva col sinistro contro il petto e col mento ne reggeva uno perché non scivolasse. Il suo respiro grosso si sentiva da lontano ed egli passava, pure se schiacciato dal peso superbo, tra i commessi rispettosi. «Quanto?» domandò Moree. «80.742 franchi e dieci centesimi», rispose. Un riso di Letizia commosse il paradiso delle signore. La cifra passava di bocca in bocca. Era il più cospicuo incasso che un negozio di novità avesse mai fatto in un giorno solo e la sera, quando Denise salì per andare a dormire, si appoggiava alle divisioni dell'angusto corridoio, sotto lo zinco del tetto. Nella sua stanzetta, chiusa la porta, si gettò sul letto tanto i piedi le facevano male. E per un pezzo stette a guardare con un'aria instupidita la toilette, l'armadio, tutta quella povertà di camera ammobiliata. Doveva vivere là. E la sua prima giornata era stata orribile. Come avrebbe fatto a riprovarci? Poi si accorse che era vestita di seta e l'uniforme le parvela soffocasse. Prima di disfare la sua valigetta, la povera bambina volle rimettere il suo vestitino di lana che era rimasto sulla spagliera ad una seggiola. Ma quando riebbe addosso i suoi miseri panni, proprio suoi, una commozione la salì e i singhiozzi trattenuti fin dalla mattina erruppero a un tratto in uno scroscio di calde lacrime. Era ricascata sul letto. Piangeva pensando i suoi due ragazzi. Piangeva e piangeva, senza aver la forza di slacciarsi le scarpe, non potendone più dalla fatica e dalla tristezza. Capitolo quinto La mattina dopo, Denise era scesa nel reparto da circa mezz'ora, quando Madame Morely le disse con la sua voce secca «Signorina, vi vogliono alla direzione!». La ragazza trovò More solo, seduto nel suo studio tappezzato di verde. S'era ricordato a un tratto della sciattona, come la chiamava Bordoncle, e ripugnandoli anche questa volta di farla parte del tiranno, aveva pensato di chiamarla per smuoverla un po' se era sempre combinata come una provinciale. Il giorno avanti, per quanto avesse scherzato anche lui, di fronte alla desforge, aveva sentito un po' di dispetto d'amor proprio, sentendo porre in dubbio l'eleganza ad una delle sue ragazze. Gli si agitava nell'animo un sentimento confuso, misto di simpatia e di stizza. «Signorina», cominciò a dire, «vi abbiamo presa per riguardo a vostro zio e non